Iniziamo adesso? Sì, vado? Sì, sì, penso che siamo collegati anche con gli studenti. Sì, sì, io chiudo il video. È iniziato, eh? È iniziato. Ok, allora comincio. Cari spettatori, cari ascoltatori, cari studenti, grazie per essere qui con noi stasera e benvenuti al dibattito online su la nuova guerra in Europa, origini e conseguenze dell'invasione russa in Ucraina. Questo dibattito è il primo di quattro eventi organizzato in cooperazione con l'Università La Sapienza di Roma, l'Università di Bologna, l'Università di Siena e l'Università Core di Enna in cui discuteremo di tempi difficili. Un benvenuto speciale al modellatore dell'evento di stasera, il professor Massimo Bucarelli della Sapienza, anche al professor Silvio Pons della Scuola Normale Superiore di Pisa e in particolare al dottor Vasil Mikhailishin che lavora per la fondazione Conrad Adenauer a Kiev. Grazie per aver trovato il tempo di essere con noi questa sera. Grazie soprattutto al dottor Vasil Mikhailishin collegato da Kiev per essere con noi. Lui parlerà in tedesco. Già a questo punto un ringraziamento anche ai due interpreti che ci aiuteranno a capirci. Noi della fondazione Conrad Adenauer a Roma siamo lieti di far parte di questa cooperazione. Come fondazione cerchiamo di sostenere un dialogo politico tra Germania e gli altri paesi e di rafforzare l'unificazione europea. In questi tempi purtroppo ci rendiamo sempre più conto di quanto sia importante la cooperazione internazionale soprattutto in Europa. Quindi sono ancora più contento che ci siano così tanti giovani che con la loro partecipazione mostrano di essere interessati a un'Europa unita e libera. Ognuno di noi ricorda sicuramente il giorno in cui un anno fa abbiamo sentito la notizia la Russia ha invaso l'Ucraina. Una notizia che solo pochi di noi credevano possibile. Ora, un anno dopo, siamo ancora spalorditi e ci sentiamo impotenti. Tanto più importante non dobbiamo lasciare che la guerra passi in secondo piano. Per questo motivo oggi vogliamo cogliere l'opportunità per guardare indietro e discutere le conseguenze dell'invasione russa. Ci auguro una serata interessante, anche se certamente deprimente. Con questo passo la parola al moderatore di questa sera, il professor Massimo Buccarelli. Grazie. Grazie al dottor Galetti e al direttore della fondazione Adenauer in Italia per avermi appunto ceduto la parola. E prima di dare inizio diciamo al seminario di oggi che come sappiamo è dedicato alle origini e alle conseguenze della guerra in Ucraina dovuta all'invasione appunto da parte della federazione russa dell'Ucraina avvenuta ormai un anno fa, il 24 febbraio del 2022. Permettetevi insomma di prendere in pochi secondi, pochissimi secondi, non voglio togliere tempo agli interventi e poi all'eventuale dibattito successivo per alcuni ringraziamenti che non sono di prassi ma sono sentiti. Vi ringrazio ovviamente la fondazione Adenauer, il dottor Galetti, il direttore, ma anche la dottoressa Praldi, la dottoressa Liberatore che oggi non è qui con noi ma ha partecipato diciamo alle fasi iniziali di questa iniziativa per aver accettato, accorto e rilanciato l'idea di alcuni colleghi, un'idea mia ma soprattutto appunto di Daniele Caviglia, Daniele Pasquilici e Michele Macchi di affrontare alcuni temi di ovviamente rilevante interesse internazionale e nazionale con un taglio diverso da quello prettamente accademico e scientifico dei seminari o dei convegni universitari ma diverso anche dalla eccessiva diciamo semplificazione dei dibattiti mediatici o televisivi cercando diciamo un giusto mix tra la necessità di approfondimento ma anche un tentativo di comunicare, di fare comunicazione anche in modo potremmo dire più snello, più dinamico soprattutto anche confrontandoci con chi è testimone sul campo di queste questioni internazionali e della realtà internazionale che sta intorno a noi. E concludo subito, ringrazio anche altri soggetti diciamo e enti, soggetti istituzionali e enti che hanno partecipato e contribuito all'organizzazione, in particolare alla Europe Direct Roma, Innovazione presso Fornez, la Europe Direct Siena, la Europe Direct Romagna, il Centro di Documentazione Europea dell'Università di Enna. Tutti quanti in qualche modo hanno contribuito a dar vita a questa iniziativa. Il tema appunto del seminario oggi l'abbiamo già detto, lo conosciamo bene, quindi do la parola ai relatori, do la parola per primo appunto al professor Silvio Pons, del detente di storia contemporanea della Scuola Normale di Pisa, direttore, presidente anzi della Fondazione Gramsci e autore di numerosi studi sull'Unione Sovietica, sul comunismo, sul movimento comunista internazionale, che immagino farà un quadro sulle origini della crisi in corso. Ricordo che ci siamo dati come tempi un quarto d'ora, all'incirca un quarto d'ora per ogni relatore, per poi dar vita eventuali osservazioni e domande e fare un secondo giro. Quindi do la parola a Silvio Pons. Grazie Massimo Buccarelli e agli organizzatori di questo evento. Naturalmente ci è capitato spesso nell'ultimo anno di parlare di quello che sta succedendo in Ucraina, della guerra lanciata da Putin in Ucraina e ognuna di queste occasioni è un'occasione di confronto importante. e questa lo è certamente, perciò vi sono grato anche di questo invito. Non so se parlerò un quarto d'ora, perché mi piacerebbe magari se riuscissimo anche a fare qualche interlocuzione in più tra relatori. Però naturalmente le cose da dire non mancano ed è importante, credo, mantenere un livello analitico, che significa anche controllare le emozioni che ci sono, come è giusto che sia, di fronte a un evento tragico, crudele. La prima cosa che mi viene da dire, pensando in preparazione di questo seminario, è inevitabilmente nell'anniversario dell'inizio della guerra, giustamente veniva ricordato prima come sia stato uno shock per tutti noi, o per gran parte di noi, perché che ci fosse una situazione di grave crisi e di tensione tra Russia e l'Ucraina, lo sapevamo molto bene, almeno dal 2014, e da quell'inizio di operazioni belliche che poi fu arginato, ma non del tutto, dagli accordi di Minsk, ma che Putin arrivasse ad una aggressione su larga scala come quella lanciata un anno fa, questo era qualcosa a cui era difficile credere qualche volta, io mi trovo a essere stupito anche adesso. Ma certamente al di là di questo impatto, che cosa sapevamo un anno fa e che cosa sappiamo oggi e che cosa vediamo oggi è già una questione da porsi, al di là dell'impatto emotivo, dicevo. Io direi che già nei primi giorni della guerra, allora se questo è il mio ricordo, alcune cose le abbiamo viste. Certo non potevamo prevedere gli scenari che si sono verificati poi nel corso di questo anno, alcuni anche radicalmente diversi dalle previsioni che si potevano fare, però alcune cose le avevamo viste. E direi fondamentalmente due. La prima è che Putin aveva lanciato una guerra senza dei chiari obiettivi, con l'idea fondamentale, con l'idea di fondo che l'esistenza di uno Stato ucraino non fosse qualcosa di legittimo, fosse qualcosa di artificioso. E una guerra lanciata in queste condizioni, con questa idea, con queste modalità, non poteva che essere destinata ad essere una catastrofe. Ad essere una catastrofe innanzitutto naturalmente per il popolo ucraino, più in generale, con conseguenze imprevedibili di una crisi regionale, che però regionale non era poi fondamentalmente, una crisi europea e anche con dei riflessi importanti sul piano globale. Questo lo sapevamo già dai primi giorni della guerra. L'altra cosa che sapevamo, seconda cosa, è che questa guerra ha delle radici profonde naturalmente. Chi fa lo storico poi, come nel mio caso, è portato per una deformazione professionale, a cercare le radici di quello che accade, ma al di là di questo, ci parve allora evidente, e credo che ancora oggi sia così, che siamo ancora, per certi aspetti, nelle conseguenze del collasso dell'Unione Sovietica. Un evento che lo stesso Putin aveva definito catastrofico, anzi dal suo punto di vista, la famosa frase, la peggiore catastrofe geopolitica del ventesimo secolo, è una frase pronunciata nel 2005 da Putin, che dice molto sulla sua visione retrospettiva, ma anche sull'eredità imperiale, che poi ha accompagnato il suo discorso sulla guerra, e anche ha generato la condotta politico-militare della Russia. Dire che questa guerra ha delle radici nel collasso sovietico naturalmente non è sufficiente, è poco più che una constatazione importante, naturalmente, ma che poi richiede di essere ulteriormente qualificata. e può prestarsi a diverse chiavi di lettura. Una di queste chiavi di lettura, anche questa oserei dire che l'anno scorso era già abbastanza presente ai nostri occhi, una di queste chiavi di lettura è che nel collasso dell'impero sovietico si era verificato una crescente divergenza di traiettorie, non soltanto tra la Russia e l'Ucraina, ma anche altri paesi, certamente però tra la Russia e l'Ucraina, almeno in un senso, e cioè che mentre in Ucraina si era sviluppato il senso e la prospettiva di uno Stato-nazione, della costruzione di uno Stato-nazione post-imperiale, in Russia non era così. Il nazionalismo russo naturalmente costituisce un'evidente molla della condotta di Putin, ma questo nazionalismo ha dei colori di carattere imperiale e imperialistico. La Russia ha continuato a mantenere una natura imperiale, una tensione che chi conosce la storia russa sa che è una delle categorie più importanti addirittura di interpretazione della storia russa, la tensione tra nazione e impero. Un grande storico britannico ha riassunto molto efficacemente questa tensione, Geoffrey Hosking, scrivendo «La Gran Bretagna aveva un impero, la Russia era un impero». Questo passato che non passa, se mi consentite, è ancora qua oggi e chiama delle riflessioni. E certamente il collasso sovietico lo ha ulteriormente precipitato in una serie di contraddizioni molto grave. Questo per quanto riguarda quello che sapevamo, se mi permettete di usare questo schema un po' naturalmente limitato. Quello che non sapevamo, ma anche naturalmente è importante, che cosa abbiamo imparato, che cosa abbiamo visto in quest'anno di guerra terribile. Beh, almeno due eventi, anche in questo caso, due fenomeni che non potevamo prevedere, che erano largamente imprevedibili. Il primo è quello della resistenza ucraina, naturalmente. Non soltanto l'Ucraina aveva fondatamente costruito uno Stato-nazione, è un Stato democratico, magari imperfetto, corrotto, con tanti difetti, ma comunque lo aveva fatto. Ma non soltanto si tratta di questo, ma la guerra ha messo in evidenza come esiste un senso di appartenenza nazionale l'Ucraina, molto forte. Senza questo fattore la guerra avrebbe preso altre strade, altri pieghi. È stato questo il fattore decisivo del cambiamento, di un cambiamento sostanziale nei scenari di guerra e naturalmente questo fattore della strenua resistenza patriottica, che continua a essere un elemento fortissimo della centrale nella vicenda di cui parliamo, rimanda all'altro evento imprevedibile e fenomeno imprevedibile, cioè la debacle politico-militare della Russia. Ma questo è un discorso che lascio naturalmente a chi si occupa più di questioni politologiche, di osservazione. Mi limito a osservare che la debacle della Russia è stata più politico-militare che economica. Nei primi mesi di guerra si faceva molto più una previsione, ricordo anche alcuni discorsi degli statisti occidentali, dello stesso presidente Biden. C'era una previsione, diciamo, di collasso economico della Russia a seguito delle sanzioni estreme, molto forti, prese dall'Occidente. Questo non è avvenuto. È un fattore, è una questione su cui anche riflettere. Ma è avvenuta una debacle politico-militare. Io non sono in grado, non ho le competenze, di esprimermi. Sull'aspetto militare è evidente che rispetto alle ambizioni iniziali, l'invasione russa ha ridimensionato le proprie ambizioni e tuttavia continua a essere probabilmente un'invasione che mira a mettere in condizioni di minorità lo Stato ucraino e a sottrarre parti di territorio sostanziali. Ci ho detto, l'altra questione che emerge da tutto questo ragionamento e che anticipavo prima, è che assistiamo sia a una continuità di linguaggio da parte dei protagonisti, sia a delle discontinuità. Questo è anche materiale per la nostra riflessione. Nel caso di Putin, le continuità e le discontinuità direi che sono abbastanza facili da leggere. La continuità sta in quello che dicevo prima. La guerra è una guerra difensiva, secondo Putin, non è neanche una guerra nel linguaggio ipocrita e edulcorato del regime. è una guerra difensiva, è una guerra contro un paese che non esiste, perché fa parte di qualche cosa che dovrebbe chiamarsi spazio spirituale russo, un discorso estremamente fumoso e quindi estremamente pericoloso. ed è nello stesso tempo una guerra che, senza che vi fosse una volontà della Russia, diventa una guerra anti-occidentale. Questo ultimo aspetto è emerso molto più nettamente nel discorso pubblico di Putin negli ultimi mesi e nel suo ultimo discorso che abbiamo ascoltato pochi giorni, due giorni fa, addirittura si parla apertamente di una guerra tra la Russia e la Nato. Questo naturalmente alludendo o addirittura indicando in modo esplicito l'aiuto militare che è stato dato dalla Nato all'Ucraina. quindi io vedrei una prevalente continuità nel linguaggio di Putin, che è preoccupante naturalmente, con una tendenza all'escalation, una tendenza all'escalation dei linguaggi, ma i linguaggi sono importanti. E una tendenza anche a presentare sempre di più questo conflitto come un conflitto globale, un conflitto globale che è rivolto poi alla fine a che cosa? Sempre secondo la versione di Putin. È rivolto a cambiare l'ordine mondiale. In questo senso la Russia cerca alleanze, cerca spazi, diciamo, proprio attraverso la sua operazione bellica, che finora non ha trovato, ma che potrebbe anche trovare. Per molto a lungo, durante quest'anno, noi abbiamo assistito, adesso vedremo che cosa succede nell'Assemblea dell'ONU, non sono informato sulle ultime, sui ultimi passi, ma fino a oggi noi potremmo dire che si è verificato un paradosso sul piano globale, e cioè la guerra di Putin in Ucraina ha compattato l'Occidente sicuramente, e in una larga misura anche l'Unione Europea, sia pure con sfumature molto diverse tra i vari paesi europei, in particolar modo tra la Germania e i paesi dell'Europa Centro-Orientale. Ha compattato l'Occidente. Mosca è stata relativamente isolata, perché quasi nessuno, nessun paese ha veramente approvato in modo esplicito la guerra in Ucraina, nemmeno la Cina lo ha fatto, ma c'è una parte, una larga parte del mondo globale che non segue l'Occidente. Noi questo dobbiamo sapere. Non lo segue nel senso che o si astiene in sede Nazioni Unite, ma vedremo che cosa succederà in questa Assemblea. potrei sbagliarmi, anzi mi auguro di sbagliarmi, ma anche perché forse questo progetto apparentemente bizzarro, confuso, di nuovo ordine mondiale proposto dalla Russia, in qualche modo arriva a toccare delle corde anti-occidentali che non sono presenti soltanto in Russia, ma sono presenti anche in altre parti del mondo. Mi chiedo da questo punto di vista se presentare la guerra come un conflitto tra democrazie e autocrazie aiuti davvero l'Occidente e abbia un senso dal nostro punto di vista. È una domanda che faccio e che consegno al webinar. Personalmente io ho delle forti perplessità in questa forma di manicheismo, non perché Putin non abbia attaccato anche la democrazia, certamente sì, anzi la sua guerra in Ucraina è una guerra anche contro la democrazia ucraina, come perché la democrazia ucraina presenta dei rischi di contagio in Russia. Ma se noi dividiamo il mondo tra democrazia e autocrazia, probabilmente la capacità egemonica dell'Occidente diminuisce, ci sono autocrazie che sono alleate dei paesi occidentali, penso alla Turchia naturalmente, ci sono contraddizioni di varia natura e si finisce in questo modo per assecondare in certo qual modo la tendenza all'escalation che credo di aver riscontrato nei discorsi di Putin. Il discorso occidentale è stato più sfumato naturalmente, c'è sempre stato qualcuno, è cominciato dal Presidente americano, a richiamare tutti a una responsabilità contro l'escalation del conflitto, ma questa escalation si sta verificando. Io ho già parlato anche troppo, avevo detto che avrei parlato poco, quindi mi scuso, questa escalation si sta verificando e io credo che l'Europa in particolar modo si trovi un po' davanti a un bivio in questo momento. Qual è il linguaggio che l'Unione Europea innanzitutto userà nei prossimi mesi? È chiaro che noi non abbiamo, non esiste uno scenario di pace negoziata in questo momento, ma i linguaggi contano lo stesso. Una cosa è dire che stiamo aiutando l'Ucraina a sopravvivere come paese indipendente, democratico, e per imporre a Putin una pace che vada bene all'Ucraina, che garantisca il futuro dell'Ucraina. Una cosa è dire questo. Un'altra cosa è dire che la nostra intenzione è sconfiggere e umiliare la Russia e magari portarla a una disgregazione. Questo è uno scenario che viene apertamente avanzato. Ho letto un articolo sul New York Times di due giorni fa in cui si prospetta uno scenario di questo tipo. La prima strada è una strada politica, è un linguaggio politico, il secondo linguaggio è un linguaggio fondamentalmente militare. Mi chiedo se gli europei non dovrebbero considerare maggiormente l'importanza di adottare l'uno o l'altro di questi due linguaggi. Però adesso veramente mi taccio e vi ringrazio per l'attenzione. Ringraziamo, ringrazio appunto di Diopons per questo quadro, diciamo, una parte finale non molto ancora diante, però insomma realistico penso della situazione. Passo subito alla parola a Vassil Mikhailishin della rappresentanza della fondazione Adenauer in Ucraina che, se capirò bene, è collegato da Kiev e che ringrazio personalmente, ringrazio a nome anche degli altri colleghi, ma penso tutti quelli che sono collegati per appunto per aver, insomma, per aver voluto dare il suo contributo, il suo punto di vista, o perché la sua testimonianza. Anche a lui ricordo che il tempo è grosso modo in a partidura. Ecco. Grazie per la possibilità, qui un Vortrag di fare. Grazie a professor Pons per il vostro Vortrag, che è stato molto interessante. Abbiamo un anno in questo paese, che all'arriamo all'seite hoffati, che sia molto lungo. Russi ho hoffato, che questo paese in qualche settimana, in tre giorni viene da Kiev eroberti e poi la tutta l'ukrainia in prossime settimane capitulare. Grazie a questo scenario non è verificato. La Ukraine ha anche ho fatto, che dopo i primi Niederlagen russi i Truppi ma non è arrivato ancora un anno. Il problema è che questo conflitto per le parti quasi existenzialo è. Per la Ukraine è un conflitto di fatto un conflitto di effetto di conflitto, che ha detto che la professoressa Pons ha detto che la russi russi ha detto che la russi ha detto che l'Ukraine è un popolo. ha una sensibilità di russi o alla russi o alla russi o alla russi o cosa la russi in l'Ukraine ma per russi o alla 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 russi un conflitto perché Putin ha molto su la sicurezza che viene da l'Ukraine che viene da l'Ukraine è una sicurezza perché l'Ukraine non è una sicurezza per russi per russi russi ha il grande nucleare russi ha la russi russi ha la migrazione in Europa e ovviamente molte russi in l'Ukraine in l'Ukraine e e l'Ukraine non è anche l'Ukraine l'Ukraine non è l'Ukraine non è l'Ukraine non è l'Ukraine o l'Ukraine 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 è l'Ukraine 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 Siamo ora in una possibilità di russi imperialismo per l'imperialismo e per molte anni per l'opportunità della Repubblica, della Repubblica, della Repubblica, della Repubblica, dell'Ukraine. E' la'Ivo, di l'Otta, di l'Ukraine, della Repubblica, della Repubblica, della Repubblica e della Repubblica, della Repubblica, della Repubblica e delle persone in cui la parte dell'Ukraine. il focus della globalità politica. Russi per la pausa, ha fatto una pausa. Russi ha non si preparato a un paese di soltanto la guerra. La russi ha hoffato, come ho detto, che questo è un paese di un paese di una milita sondroperazione. E per la russi truppe i truppi sono anche escolti. La truppe di ukraini sono anche erschoppte, ma russi ha molti, hunderte, tausende di Panzer, di Fahrzeuge, di Flugzeuge, di Hubschrauber e di persone, di persone, di persone che in i primi anni della campagna e poi ancora perdono, in un certo modo, che russi una parte di Mobilmachung. Russi ha un forte militare-industriere komplexe, ma man braucht natürlich Zeit, um questo a fare. Darum braucht Putin oggi una pausa, un Waffenstillstand, alcuni tempori Friedensabelli, um seine territoriale Gewinne zu konservieren, um die okkupierten Gebiete zu consolidieren und die Armee wieder aufzubauen und dann wieder zu versuchen, die Ukraine anzugreifen. Weil, wie vielmehr gesagt, das Ziel ist nicht, irgendwelche Landbrücke zur Krim aufzubewahren oder irgendwelche neu okkupierten Gebiete zu annektieren und zu bewahren, aber die gesamte Ukraine unter russischer Kontrolle zu behalten. Das ist das strategische Ziel von Russland. Darum, auch wenn wir jetzt irgendwelche Friedensabkommen haben werden, wird dieser Friedensabkommen nicht lange dauern, wenn Russland die Kapazitäten hat, in ein Jahr, drei Jahren oder fünf Jahren ihr militärisches Potenzial wieder aufzubauen. Weil im Kern hat die Ukraine zwei hauptmilitärische, zwei sicherheitspolitische Hauptaufgaben in diesem Krieg. Die erste Aufgabe ist natürlich, ihre Territorien zu befreien, die jetzt unter russischer Kontrolle sind, zu dem Punkt, was Ukraine im Jahre 1991 kontrolliert hat. Das heißt, in international anerkannten Grenzen. Das ist auch eine moralische Verantwortung für die Ukraine, für die ukrainische Regierung gegen ihre Bevölkerung, gegen die Leute, die jetzt in Okkupation wohnen, die jetzt im Gefängnis gesperrt werden, die jetzt ihre Rechte nicht zu dem Punkt haben können, wie sie in freier Ukraine das konnten, wo Kinder verschleppt werden nach Russland. Also das ist einerseits eine moralische Verantwortung. Andererseits ist auch eine sicherheitspolitische Verantwortung, weil 2014 und dann wieder 2022 hat Russland, hat Putin ein Präzident geschafft, dass Grenzen in der Welt können durch Gewalt verschoben werden, Territorien können annektiert werden und das ist eine sehr gefährliche Pandora-Wüchse, die Ukraine jetzt schließen soll. Und zweite strategische Aufgabe, und das ist, ich glaube, diese Aufgabe ist noch wichtiger, dass dieser Angriff in ein, drei oder fünf Jahren nicht wieder stattfinden kann. Das heißt, dass Russland so erschöpft ist, dass russisches militärisches Potenzial so erschöpft ist und die Ukraine so militärisch gestärkt ist oder solche Sicherheitsgarantien, beste Sicherheitsgarantien von ihren Partnern hat, dass Russland nie mehr imstande ist, so einen Angriff nochmal zu machen. Dafür braucht die Ukraine Waffen, dafür braucht die Ukraine militärische Unterstützung vom Westen, von anderen Partnern und darum hat das ukrainische Volk so einen starken Widerstandswillen. Zum Beispiel in allen letzten Umfragen, wenn wir anschauen, natürlich sind Umfragen immer problematisch in Kriegszeiten, aber trotzdem können wir die Stimmung fühlen, dass 80 bis 90 Prozent in allen Monaten des Krieges der Ukraine sind gegen irgendwelche territorialen Zugeständnisse an Russland. Das heißt, auch nach allen fräcklichen, katastrophalen Folgen dieses Krieges sind die Leute trotzdem nach wie vor bereit, das alles durchzuleben, um die Ukraine gegen Russland gewinnt, ihre territoriale Integrität wiederherstellt und dann sich weiterentwickelt. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Bis diese Aufgabe wirklich verwirklicht ist, können vielleicht Jahre dauern, aber ich glaube, also mit Unterstützung des Westens von anderen Ländern, die mit dieser Aufgabe einverstanden sind, ist es machbar. Im Idealfall natürlich, die russische Niederlage soll zum Rückzug von russischen Truppen aus dem gesamten Territorium der Ukraine führen und einen Schritt weiter soll es auch zu Regimewechseln in Russland führen, weil natürlich man versteht in der Ukraine, dass Russland unter heutigem Regime eine ständige Gefahr nicht nur für die Ukraine sein wird, aber auch für andere Nachbarländer, von Putin, von anderen europäischen Ländern, von anderen post-sowjetischen Ländern und nur Regimewechsel in Russland, dass eine neue, hoffentlich demokratische Regierung in Russland kommt, kann diese Gefahr beseitigen. Ob es eine realistische Perspektive ist, ist natürlich sehr fragwürdig, aber trotzdem, ich beschreibe jetzt hier dieses am meisten optimistische Szenario, das in ukrainischen, europäischen und auch russischen Interessen liegt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Quanti sono collegati? Abbiamo sollecitazioni, domande? interessato a proponire qualche aspetto delle cose che sono state dette? Posso intervenire? Prego. Daniele Pasfinetti. Bene. Buonasera a tutti. Devo dire che entrambi gli interventi sono stati molto interessanti e stimolanti. e ringrazio entrambi i relatori per il tempo che ci hanno dedicato e per l'interesse e la puntualità delle loro argomentazioni e delle loro tesi. No, vorrei fare un paio di rapide osservazioni su alcune cose che ha detto Silvio Pons e soprattutto per, diciamo, sollecitare una sua osservazione, un paio di osservazioni aggiuntive. Non so se sentite chiaramente la mia voce. La questione della dicotomia a democrazie, autoritarismi o democrazie, teocrazie, eccetera. Ora, da un lato è sicuramente vero che, diciamo, il fronte che combatte la Russia non è fatto tutto di democrazie impeccabili, diciamo. Questo non c'è. Ma è vero anche il contrario, ovvero ci sono stati che hanno un atteggiamento abbastanza neutrale o accondiscendente nei confronti della Russia che non appartengono, diciamo, al mondo autoritario o dittatoriale, diciamo. Però mi chiedo anche se in realtà questa dicotomia a democrazia e autoritarismi non abbia una sua validità quando si spiega all'opinione pubblica, quando si giustifica, illustrano le ragioni di questo conflitto come effettivamente una contrapposizione tra democrazia e autoritarismi come quello putiniano, insomma. Non credo, insomma, che ci si debba in qualche modo, non dico vergognare, ma avere qualche ritrosia a presentare la cosa da questo punto di vista. A me pare che soprattutto, diciamo, in Russia il problema sia quello di presentare questa guerra come una guerra dell'Occidente nel suo insieme, diciamo, mossa contro la Russia. E personalmente credo che non ci si debba fare troppe, avere troppe remore nel presentare questa guerra, sapendo che si tratta chiaramente anche di una dicotomia, di una semplificazione, in cui però c'è qualcosa di abbastanza sostanziale, mi pare. L'altra questione è sconfiggere e non umiliare la Russia, attenzione a non umiliare la Russia, se ho inteso bene la parte finale dell'intervento di Pons. Questa è una osservazione molto giusta, bisogna fare molta attenzione. Mi chiedo però se ci sia un'alternativa per Putin a una vittoria totale, diciamo, e se qualunque opzione che non contempia una sua vittoria non sia Putin considerata come una umiliazione. E quindi mi chiedo quanto sia agevole per chi combatte l'invasione russa in Ucraina trovare un giusto equilibrio tra la necessità di sostenere l'Ucraina e la necessità di non umiliare la Russia. E mi chiedo anche se in realtà qui il problema più che umiliare la Russia non sia quello di umiliare Putin, diciamo, umiliare Putin e la cerchia di persone che li stanno incontro, li stanno intorno, chiedo scusa. Ecco, questo credo sia un problema difficilmente risolvibile, credo, se noi vogliamo continuare a sostenere l'Ucraina e sconfiggere il tentativo di Putin. Grazie, Daniele. Magari raccogliamo, ci sono altre, appunto, osservazioni, spunti e poi diamo la parola ai relatori. In attesa che venga qualche osservazione o alcun'altra, ne vorrei fare una io a Vassil Mikaelishin. e, diciamo, a mia curiosità di capire, al di là del discorso pubblico che viene fatto adesso da Zelensky, dalla classe dirigente ucraina, impegnata ovviamente in questa guerra tremenda, eccetera, rispetto agli obiettivi, no? Agli obiettivi concreti, reali, raggiungibili, insomma, in questa lotta per la difesa, appunto, per l'indipendenza dello Stato. Però, diciamo, c'è un dibattito, oppure ci sono, appunto, al di là del discorso pubblico, c'è un tentativo di ragionare su quali possono essere, diciamo, obiettivi realistici. Infatti, vi spiego meglio. È più importante recuperare la completa integrità territoriale o è più importante, o si ritiene più importante raggiungere un assetto che possa garantire la sicurezza futura, quindi la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina nel futuro, e quindi fare accettare eventualmente alla Russia una piena appartenenza, integrazione dell'Unione Europea nell'Occidente, intesa sia come Unione Europea, sia come collegamento in qualche modo all'Alleanza Atlantica, se non addirittura l'ingresso dell'Alleanza Atlantica. A di là che, ovviamente, l'obiettivo finale è raggiungere entrambi gli scopi, la piena recupera, la piena integrità territoriale e la sicurezza e la garanzia della sicurezza nel futuro, ma, diciamo, c'è invece un dibattito rispetto a qual è la priorità, garantire la sicurezza nel futuro del Stato ucraino o recuperare completamente i confini, insomma, i territori. Se non abbiamo altre osservazioni, magari possiamo ridare la parola ai nostri relatori a partire da Silvio Pozzi. Prego. Grazie. Tutte le questioni che sono state poste sono delle questioni estremamente dilemmatiche. Io non vorrei fare le affermazioni che non mi sento di fare, nel senso che io stesso ho dei dubbi profondi su quali possano essere i scenari, le prospettive e ciò che effettivamente può portare a una conclusione di questa guerra che innanzitutto sia di salvaguardia al futuro dell'Ucraina e dell'Europa. Quindi non ho nessuna intenzione di presentare certezze. Quando dicevo che ci sono due linguaggi diversi, un linguaggio della politica, un linguaggio militare, credo che questa sia una distinzione forse un po' sottile e giustamente Pasquinucci dice però poi concretamente che cosa significa questo. La mia risposta è non lo so. Però mi fa un po' impressione sentire, se scendiamo diciamo su alcuni esempi per intenderci, sentire l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea che parla diciamo su esattamente lo stesso linguaggio del segretario generale della Nato un po' mi colpisce, devo dire, perché ritengo non che la Nato non ci rappresenti, ma che dovrebbe rappresentare un linguaggio in una certa misura diverso da quello dell'Unione Europea perché l'Unione Europea è un'entità che dovrebbe avere anche dei suoi interessi a parlare di politica e ho l'impressione che il presidente Macron probabilmente, che spesso viene criticato, abbia proprio questo in testa quando dice alcune cose. Perciò il mio invito è semplicemente a non sottovalutare le differenze dei linguaggi perché dall'altra parte qualcuno che ascolta c'è sempre e questo qualcuno che ascolta è anche uno dei problemi che noi ci dovremmo porre e cioè che cosa significa sconfitta o vittoria per Putin non lo sappiamo, no? A me verrebbe di dire che Putin ha già perso perché perché c'è un'Ucraina democratica e sovrana che sta resistendo alla guerra e che diciamo è legittimamente candidata a far parte dell'Unione Europea. In questo senso Putin ha già perso perciò più di tanto diciamo non ci possiamo preoccupare poi di come Putin presenterà al suo popolo la vittoria o la sconfitta non lo sappiamo però mi permetto di dire conoscendo un po' la Russia e sapendo che Putin è molto popolare in Russia attualmente e anche durante l'anno di guerra e questo è quello che dicono i sondaggi ma non ci vuole molto per capirlo che mi permetto di dire che la prospettiva di un cambio di regime mi sembra proprio la cosa come posso dire che più rasenta lo wishful thinking cioè perché non c'è nessun apparente motivo per pensare che ci sarà un cambio di regime in Russia a meno che naturalmente la Russia non sia posta in una condizione di disfatta totale lo ricordavo nella mia introduzione c'è lo scenario della sconfitta addirittura della disintegrazione della Russia c'è chi sostiene ed è un argomento che io di cui io prendo atto non lo condivido ma prendo atto che soltanto attraverso poiché la Russia post sovietica continua ad avere una sua struttura imperiale e non soltanto le classi dirigenti che la pensano così ma proprio una struttura imperiale soltanto la sua disgregazione potrà portare ad una democratizzazione della Russia non lo so però di fronte a uno scenario di questo genere non posso non osservare prima di tutto che la successione a Putin potrebbe essere peggiore nello stesso Putin e in secondo luogo che la disgregazione è innanzitutto imprevedibilità cioè noi non possiamo scommettere sulla democratizzazione scusate sulla disintegrazione come democratizzazione mi sembra un gioco d'azzardo e mi dispiace doverlo dire ma devo anche dire ciascuno di noi ha presente qualche cosa che qualche volta è rimosso nelle nella nelle casse di risonanza mediatiche di questa guerra la Russia è una potenza nucleare va bene e ci pensano Medvedev e altri Putin meno addirittura a ricordarcelo una catastrofe nucleare è possibile ed è possibile per la prima volta forse in un modo come durante la guerra fredda non è mai stato possibile forse con l'eccezione della crisi dei missili a Cuba dovremmo sempre tenerlo presente anche perché una catastrofe nucleare sarebbe innanzitutto una catastrofe in Ucraina questo lo sappiamo e non soltanto in Ucraina concludo sulla sulla questione di democrazia e autocrazia allora io sono d'accordo su una torsione del discorso che mi pare di aver colto nell'intervento di Pasquinucci cioè se noi parliamo di guerra per la democrazia io sono completamente d'accordo cioè se il anzi direi di più diciamo la realtà dell'Ucraina è già prima della guerra e ancora di più in questo anno di guerra che spesso viene letta come una realtà nazionalista e io la leggerei innanzitutto come la diciamo una delle numerose manifestazioni di aspirazione alla libertà e alla democrazia che continuano ad essere ad esserci sul piano globale e che ci sono state dall'89 alle rivoluzioni colorate alle primavere arabe certo in questa costellazione della libertà globale molte cose sono andate storte perché ci sono i dittatori perché ci sono le autocrazie e Putin fa parte di quella anzi addirittura si propone con una leadership in questo senso non c'è il minimo dubbio però lo dicevo nella mia introduzione che la guerra di Putin in Ucraina è anche una guerra contro la democrazia come contagio perciò se parliamo di questo io sono completamente d'accordo dico faccio due osservazioni primo non dimentichiamoci che esistono dei democratici anche in Russia è vero che molti sono sono emigrati ma qual è la nostra strategia o esiste una nostra strategia per salvaguardare una minimo di possibilità di evoluzione della Russia verso scenari democratici oppure noi diamo per scontato che ormai la Russia è andata diciamo è l'eterna Russia autocratica certo si può disgregare e allora se ne riparlerà ma diversamente la Russia è destinata del the problem with Russia is Russia itself questo era il titolo di un articolo sul New York Times ecco io siccome ho tanti amici in Russia forse quasi sia questa diciamo il problema che sono antiputiniani sono contro la guerra e sono per la democrazia ogni tanto io penso anche a loro e non sono d'accordo con gli editoriali dell'Economist che ci spiega che tanto la Russia è un orso cattivo quindi dobbiamo tenerlo per forza lì a Bada e più gli diamo delle botte sulla testa e tanto meglio è non so se questa sia una strategia molto lucida non so quanto lungimirante ma sicuramente è una strategia che esclude la possibilità di una Russia democratica io non vorrei che fosse così però diciamo questo è una mia se volete è una mia è un mio punto di vista se invece parliamo del linguaggio della contrapposizione tra democrazia e autocrazia come stati questo è il punto che contestavo prima allora su questo io ho molti più dubbi perché per le ragioni che sono abbastanza evidenti e noi in un certo senso restringiamo all'Occidente delle possibilità invece di di maggiore egemonia nel mondo di maggiore consenso da raccogliere anche presso paesi democratici che però non si vogliono schierare in questa visione manichea la visione manichea del mondo con diciamo basata sulle statualità sugli stati le democrazie come stato contro le autocrazie come stato a mio parere è una visione riduttiva e che non favorisce quella grande espansione delle libertà e delle democrazie del resto lo abbiamo già visto perché questa contrapposizione manichea tra democrazie statuali e autocrazie statuali è una retorica che abbiamo già sentito nella guerra in Iraq francamente i risultati non sono stati molto molto felici giusto quindi forse un po' di memoria storica da questo punto di vista ci dovrebbe essere ma si sa che nei tempi nei nostri tempi non mi riferisco ai presenti naturalmente ma al discorso mediatico queste memorie storiche tendono tendono a svanire guerra per la democrazia diciamo difesa della guerra guerra resistenza per difendere la democrazia d'accordo divisione del mondo in bene e male sinceramente c'è Andrea Di Piano grazie grazie ringrazio Silvio appunto per la prima di rispondere ci sarebbero tante cose da dire però ricordo che abbiamo tempi stretti e che massimo ai di fatto e timici dobbiamo concludere il seminario prima di passare la parola a Vassimil Micalisci vedo che il collega Massimiliano Cuderzo ha alzato la mano quindi magari raccogliamo la sua osservazione e poi poi concludiamo insomma se Massimiliano Cuderzo è ancora collegato probabilmente la mano ha alzato da prima quindi allora procediamo con la la replica appunto di Micalisci nell'osservazione che ho fatto io rispetto a obiettivi realistici della difesa politica in l'Ukraine 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 18 quindi potremmo ah c'è una non ho visto una mano alzata da parte di Daniele Caviglia prego sì io ho diverse domande di cui mi sono accorto in ritardo da parte degli studenti cercherò di riassumere ad alcune di loro è stata già data secondo me risposta altre per esempio che mi chiedono se a vostro avviso ci possono essere degli ulteriori pericoli di una possibile escalation che può riguardare paesi limitrofi come ad esempio la Moldavia e poi un'altra persona che mi chiede qual è l'atteggiamento assunto da altri paesi confinanti come la Georgia piuttosto che la Azerbaijan e infine un'altra domanda che mi sembra interessante legata all'argomento che avete trattato prima se non pensate che il processo di democratizzazione della Russia non possa essere stimolato attraverso un percorso sicuramente molto lungo che la potrebbe avvicinare e poi addirittura portare dentro l'Unione Europea quindi in un certo senso capovolgere un po' l'atteggiamento diciamo positivo se non addirittura punitivo che in alcuni casi si riscontra presso le leadership europee magari questo non è il momento per pensare ad un percorso del genere però chissà cercare di creare un domani le condizioni e comunque questa è una delle domande che sono state fatte grazie grazie Vasil e non so se Silvio vuole aggiungere qualche altra riflessione. Sì grazie ma forse merita una risposta a questa domanda sul rapporto tra la Russia e l'Unione Europea. Certo diciamo a partire dalla situazione che si è creata è una è una situazione in cui la Russia sembra ormai aver preso una traiettoria verso una un'alleanza organica con la Cina e e di conseguenza un allontanamento ulteriore forse storico dall'Europa. Per chi conosce la storia della Russia il suo rapporto stretto molto stretto con la storia europea molto stretto e anche molto conflittuale naturalmente la storia europea questa traiettoria di allontanamento l'Europa e la Russia è davvero qualcosa di che era impensabile fino a pochi anni fa ma è quello che si sta che si sta verificando quindi la domanda sul rapporto possibile o addirittura appartenenza della Russia e dell'Unione Europea è una domanda che può valere per il passato cioè abbiamo perso delle occasioni da questo punto di vista era possibile in una fase precedente o addirittura prima dell'ascesa di Putin o nei primi anni di Putin pensare ad una diversa architettura dei rapporti tra l'Unione Europea la Russia è una domanda legittima e la risposta è molto difficile e molto complessa perché l'allargamento dell'Unione Europea implicava innanzitutto l'ingresso come membri di paesi che erano stati sotto il dominio dell'Unione Sovietica e che certamente erano portatori di un sentimento fortemente antirusso e anche legittimamente antirusso nel senso diciamo di vedere la propria sicurezza in una distanziamento dalla Russia è una questione estremamente complessa però la questione potrebbe valere la pena riporsela cioè in quale misura gli europei degli anni 70 costruirono la conferenza di Helsinki in un'epoca in cui l'Unione Sovietica era molto più potente della Russia e costituiva davvero una potenza globale non come la federazione russa che non è una potenza globale o può continuare a esserlo soltanto in alleanza con la Cina gli europei si inventarono la conferenza di Helsinki gli europei degli anni 90 o di inizio secolo non si sono inventati molto diciamo così ma naturalmente non sappiamo se davvero era possibile influire sulle dinamiche interne della Russia certamente da un certo momento in avanti anche qui forse la guerra in Iraq è stata importante sul piano internazionale ma poi ci sono le dinamiche interne da un certo momento in avanti la possibilità dell'Occidente di influire sull'evoluzione della Russia è diminuita notevolmente direi da almeno 10-15 anni a questa parte e quindi lo scenario a cui a cui dobbiamo pensare non è più quello di una integrazione possibile della Russia nell'Unione Europea ma ma pensare in termini in termini diversi e diciamo sugli scenari di cui di cui abbiamo parlato oggi certamente sono scenari tutti difficili e pieni di incertezze stiamo stiamo vivendo nell'incertezza stiamo vivendo in una in una situazione particolarmente pericolosa per tutti però anche io voglio essere ottimista come come il nostro collega che sta a Kiev e diciamo è in una posizione particolarmente delicata e molto più difficile di chi si trova a parlare di queste cose a Roma o a Parigi o a Berlino quindi vorrei intanto esprimere la mia solidarietà e dire che naturalmente bisogna essere ottimisti e sperare in una conclusione della guerra che garantisca il futuro libero indipendente e democratico dell'Ucraina sì grazie naturalmente alla solidarietà di tutti noi e c'erano altre altre due domande nella chat che però più o meno penso a cui più o meno c'è stata risposta c'era un'osservazione di di Massimiliano Cuterzo sul ruolo lacunoso dell'Unione Europea ma appunto penso che queste ultime cose dette da si riguardano più o meno dato una risposta e mi permetto solo di dire una cosa poi chiudiamo perché appunto alle 18 e 15 più o meno dobbiamo chiudere insomma un po' scettico sulla possibilità di una partnership strategica non tattica tra la Russia e la e la Cina perché insomma la Russia per liberarsi dalla pressione dell'Occidente poi si lega alla Cina nel ruolo di junior partner in questa diciamo in questo legame strategico ma ma questo poi 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 lo vedremo e anche rispetto alla tentativa parte dell'Unione Europea di coinvolgere la Russia ovviamente non è stata fatta la nuova conferenza di Helsinki però ci sono altri aspetti tipo i legami economici commerciali e energetici perché adesso il problema del gas dei gasdotti e le condizioni del gas ha sicuramente un aspetto economico commerciale ma anche il tentativo di creare non una comunanza di interessi noi ci siamo legati alla Russia per il gas in realtà anche la Russia si è legata a noi forse c'era una chiave interpretativa di questo forte legame energetico anche quello di creare una comunanza di interessi no e che potesse essere tale da poter affrontare non con la forza ma con il dialogo altri strumenti problemi che sarebbero emersi per non rinunciare a questa comunanza di interessi. Detto questo penso che dobbiamo chiudere se se il direttore Caletti insomma è d'accordo non se possiamo chiudere credo che sia stata diciamo un'iniziativa molto molto interessante con molti spunti e anche molto partecipata quindi ringrazio i relatori ringrazio la fondazione Atenauer non so se appunto grazie a tutti Nino vuole chiudere ci salutiamo qui va bene allora grazie a tutti tutti gli studenti o insomma gli ascoltatori interessati che si sono collegati e a riederci buonasera a tutti